Francesco Di Fulvio, Italia e ho cercato di migliorare ogni giorno il mio gioco per aiutare il mio team. La victoria in Quangzhou è stato il migliore risultato per me. Voglio migliorare il mio gioco, voglio venire più e spero di venire gli Olimpiadi. Voglio cercare di venire la Champions League con Direcco. Ho scoperto dopo 5 anni, quindi questo è il mio migliore sogno con la squadra. Mi piace venire, quindi ho cercato di venire tutto. È impossibile venire tutto, ma ho cercato.